buonasera e benvenuti a questa conversazione su sandro penna che accetto di fare molto volentieri pur essendo in qualche modo costretto per cause di forza maggiore che ci riguardano tutti a ricorrere a questo strumento che però evidentemente rivela tutti anche la sua utilità in questi casi parlare di penna significa sostanzialmente parlare del del maggior lirico del secolo che si è concluso ormai già da un ventennio lo dico ormai senza senza esagerazione perché non parla ovviamente del maggior poeta penna stesso non avrebbe in qualche modo accettato questa questa definizione questo incasellamento perché si si riconosceva sempre qualche modo secondo dopo dopo montale o dopo sabba che sono stati poi i suoi sponsor i suoi maggiori sostenitori e mentori soprattutto negli anni non facili del suo esordio però sicuramente appunto è il nostro maggior poeta lirico intendendo proprio per per poesia lirica la poesia del soggetto che parla di di se stesso del proprio vissuto delle proprie esperienze e le sublima in un linguaggio esteticamente compiuto questo sicuramente risponde all'operazione che penna ha fatto intorno alla sua scrittura dobbiamo tenere bene presente infatti che negli anni in cui penna si affaccia sulla scena letteraria parliamo quindi dei dei tardi anni venti primi anni trenta del novecento la poesia è soprattutto dominata da una grande influenza che arriva da oltre alpe dalla dalla francia quindi il simbolismo il tardo simbolismo sono anni in cui i nostri maggiori autori soprattutto ungaretti frequentano e anche palazzeschi frequentano molto la letteratura d'oltre alpe e e questo ha inevitabilmente dei dei riverberi molto molto forti su quello che accade anche qui in casa nostra sono anche gli anni in cui si comincia a preparare nella nella lingua della poesia italiana quella che è stata definita una vera e propria grammatica ermetica grammatica rispetto alla quale penna con saba si tiene piuttosto distante se non addirittura polemico che cosa accade negli anni negli anni di penna e come penna è divenuto poeta lui che nasce nel giugno del 1906 a a perugia quindi è già di qualche anno in realtà più grande rispetto a quella che è stata la grande generazione degli anni dieci quella che appunto poi ha dominato la scena dell'ermetismo quindi è un po più grande rispetto a luci a bigongiari a parronchi più grande rispetto anche allo stesso sereni e eppure e in qualche modo viene viene accomunato a a questa a questa generazione che comprende fra l'altro ovviamente anche i nomi di caproni e di di bertolucci per restare ai maggiori a quelli più più letti più conosciuti però appunto rispetto a questa generazione che nasce più che altro nell'alveo del del decennio successivo degli anni dieci penna a qualche anno in più e questo anno in più in qualche modo consente uno scarto anche di di formazione culturale tra l'altro penna non è un poeta cittadino o meglio non nasce come poeta cittadino ma nasce come poeta di provincia nel senso che nasce a perugia e nascere nella perugia appunto nei primi anni del novecento significa sostanzialmente muoversi in una condizione di di vassallaggio culturale rispetto ai centri di grandi centri di produzione di cultura che in italia restano sostanzialmente milano firenze soprattutto e roma e napoli quindi le grandi le grandi città penna nasce invece in un contesto più appartato soprattutto nasce all'interno di una famiglia che non ha una tradizione culturale non ha soprattutto una tradizione di tipo umanistico letterario il padre e il nonno di penna sono stati dei commercianti gestivano un emporio nel centro di perugia un emporio che di cui poi penna parlerà in alcuni suoi ricordi in alcune sue prose con una specie di di antro di bottega in cui lui si fermava lì ad aspettare i clienti che venivano ad acquistare di tutto era veramente un emporio un bazar dove si poteva trovare di tutto dai liquori al vestiario a prodotti per l'igiene e via dicendo come si usava appunto in in quei tempi e penna però nei lunghi pomeriggi soprattutto passati all'interno della della bottega paterna poteva permettersi invece di di passare ore di di ampie lunghe e prolungate letture appunto e la sua formazione è avvenuta in questa maniera una formazione curiosa perché completamente da autodidatta fatto i suoi studi sono stati studi di di ragioniere e lì poi la sua formazione scolastica si è interrotta penna non ha mai frequentato le aule di un'università e quindi davvero sorprendente per per la precocità e anche per la dimostrazione di di grandi interessi che un ragazzo nato e vissuto in questo contesto poi ci tenesse invece essere assolutamente informato su quello che accadeva e quindi era un grande lettore non solo di di opere di poesia che che uscivano in quegli anni riconosceva perfettamente gli sviluppi più recenti della poesia italiana legge appunto ungaretti legge sabba legge montale legge cardarelli ovviamente per la sua formazione di tipo scolastico ha ben presenti anche i grandi e poi dell'ottocento dalle pardi a carducci tutto questo indubbiamente lascia una grande traccia proprio italiana sulla sua formazione ma come dicevo prima penne anche molto attento a quello che accade oltre alpe pur non avendo avuto contatti diretti con la cultura d'oltre alpe soprattutto quella francese legge perfettamente il francese perché l'ho studiato anche anche a scuola fra l'altro verrà incaricato in anni più tardi divenuto ormai un autore riconosciuto anche di traduzioni dal francese traduce merimè traduce claudel appunto però non ha mai avuto contatti diretti quindi si tratta veramente di frequentazioni squisitamente letterarie avvenute proprio sulle pagine delle riviste di quegli anni che naturalmente testimoniavano di questo scambio molto molto fervido molto molto importante molto direi cospicuo fitto appunto soprattutto tra cultura italiana e cultura francese ed è quindi così per scelta personale per per incontri assolutamente fortuiti casuali che penna si imbatte nella grande poesia dell'ottocento francese per esempio dei simbolisti e dei post simbolisti a cominciare dal padre di tutti baudelaire fino ad arrivare appunto alla grande triade berlaine a rambo allarme con una spiccata predilezione appunto per per rambo e in parte anche per per berlaine sui quali comincia già giovanissimo a esercitarsi a fare dei primi delle prime prove appunto di traduzione di alcuni versi che poi sono stati ritrovati puntualmente tra i suoi autografi dopo la sua morte avvenuta nel gennaio del 1977 a roma che sarebbe poi divenuta dopo perugia la sua seconda città o meglio la sua città di di elezione proprio che cosa accade appunto in quegli anni a perugia accade che rispetto a quelli che sono gli indirizzi della poesia novecentesca una poesia come sappiamo che coltiva un'ottologia in negativo a cominciare da montale che sarà proprio il campione di questo di questo tipo di orientamento appunto della della ricerca lirica di quegli anni penna si trova in realtà in una posizione diversa in una posizione che non esiterei a definire di tipo reattivo c'è una vera e propria reazione che avviene lui non solo per quanto gli deriva appunto anche dal dalla frequentazione dell'eredità francese e che naturalmente contempla anche la prosa la grande cosa francese è sicuramente proust frequentando un un amico negli anni estivi a porto san giorgio dove nelle marche dove si recava appunto a trovare la madre che si era separata dal padre nel frattempo e quindi passava lì sulla costa marchigiana i mesi estivi al mare si imbatte in un giovane poeta locale a cruto vitali personaggio molto particolare che meriterebbe molta più attenzione anche da parte del degli storiografi letterari perché sarà proprio a cruto con cui instaurerà un fitto rapporto un fitto carteggio direi che tra le grandi amicizie della vita di penna quella con la cruto è forse la più la più duratura più lunga la più sincera la più onesta la più disinteressata a cruto ok di qualche anno più grande lo mette direttamente in contatto appunto con i grandi autori francesi in particolare proust quando si conoscono questo episodio che rientra nella fitta aneddotica che circola intorno alla vita di penna quando si conoscono a cruto che aveva in mano appunto un libro un tomo appunto di recente pubblicazione proprio della ricerca di proust in francese eh impegnato in una commissione urgente consegna questo volume in mano al giovane sandro che comincia naturalmente a sfogliarlo e da quel momento in poi rimane completamente irretita appunto da quella da quella lettura e poi l'altro grande canale di influsso che 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 permia profondamente la 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 formazione del giovane penna è sicuramente quello della della cultura mitteleuropea della cultura germanica penso soprattutto a nice e a e a freud questi due grandi nomi che ovviamente sono un po dei chiaristelli universali per penetrare la formazione di molti autori di quel periodo ma che valgono per penna naturalmente come un come dei veri e propri poli di di tensione con i quali si incontra e si scontra a seconda dei casi ma che sicuramente lasciano un ombra molto norma molto molto profonda appunto sulla sulla sua formazione l'altro possibile canale quello che riguarda però un po più minoritario direi che riguarda la cultura ad oltremanica la cultura inglese soprattutto gli autori del romanticismo inglese e tra questi sicuramente kids appunto è un altro autore che sicuramente possiamo citare tra le possibili fonti tra i possibili appunto autori di di riferimento ora che cosa succede che appunto il giovane penna subisce la separazione dei dei genitori e rimane a perugia a vivere con il padre e con una zia pur ovviamente amando profondamente questa questa figura della zia però non riuscirà mai pienamente a sostituirla rispetto a quella materna verso la quale rimane profondamente legato al punto che tutte le stati decide appunto di recarsi a porto san giorgio quindi il la sua prima poesia le sue prime attestazioni poetiche sono proprio delle delle prove se volete sicuramente scolastiche ingenue ma rivolte o dedicate alla alla madre appunto la madre è questa figura dell'assenza in questo diventa quasi una sorta di figura stilovistica di un amore di lontano ecco che che penna poi riesce a colmare solamente nei nei mesi estivi ed è quindi questa assenza che in qualche modo fa di penna un poeta è proprio questa assenza che poi penna devierà rivivrà a suo modo e sostituendo a sua volta la figura materna con un'altra figura importante centrale della sua poesia della sua poetica che è quella del del fanciullo prima di arrivare a questo però appunto il primo input poetico viene proprio da questo da questa separazione dei genitori tanto che quella che penna considera la sua prima vera poesia nel senso di poesia compiuta risale all'agosto del 28 ed è quella che apre un po tutte le sue pubblicazioni tutte le sue principali raccolte ovvero la vita ricordarsi di un risveglio è una poesia importantissima che tra l'altro viene scritta proprio con riferimento al al momento in cui viene veramente vissuta qui veramente possiamo parlare di poesia vissuta perché penna partiva la sera da perugia su una carrozza di terza classe allora esisteva appunto anche la terza classe che aveva naturalmente i vagoni più più spogli e con le con le panchine di legno quindi si si passava la notte in treno in una maniera assolutamente scomoda e la mattina finalmente come una sorta di passaggio proprio dal buio della notte al alla luce dell'alba quindi con un valore simbolico molto molto forte molto evidente succedeva appunto che che penna poteva tranquillamente abbracciare appunto questa questa figura di cui aveva sentito l'assenza e quindi il mare diventa figura parentale diventa una una figura apparizione del mare della costa appunto marchigiana diventa proprio simbolicamente questa figura materna questa questa questo simbolo appunto del del creato della natura che abbraccia appunto il il singolo e lo immette lo fa sentire non più solo ma all'interno di un circuito affettivo ed è proprio infatti un movimento affettivo che in qualche modo percorre un po come una corrente affettiva percorso l'infinito di di leopardi percorre anche questo primo testo che che penna appunto ci vuole consegnare dopo tante prove giovanili che sono state comunque pubblicate e documentate naturalmente e penna è sempre stato molto molto legato a questa poesia è l'unica in cui parla appunto di una tematica forte che sorregge tutta la sua scrittura che quella del ricordo come se questo fosse una sorta di manifesto su cui poi non ha più bisogno di dire altro perché ha già detto tutto qui e questa poesia breve sono appunto una decina di diversi divisi in due strofe e recita così la vita è ricordarsi di un risveglio triste in un treno all'alba aver veduto fuori la luce incerta aver sentito nel corpo rotto la malinconia vergine e aspra dell'aria pungente ma ricordarsi la liberazione improvvisa e più dolce a me vicino un marinaio giovane l'azzurro e il bianco della sua divisa e fuori un mare tutto fresco di colore ecco qui c'è proprio direi il racconto la narrazione e la descrizione di quello che vi ho appena detto appunto di un viaggio notturno in una carrozza di terza classe da perugia a porto san giorgio la vita tre puntini e ricordarsi di un risveglio quindi la vita non è un risveglio ma la vita è nel ricordo di questo risveglio quindi la vita come ricordo il ricordo come vita questo è una poetica molto importante che segna anche è una posizione piuttosto particolare di penna all'interno di uno dei filoni dominanti della letteratura otto novecentesca che è proprio quella appunto che coltiva la memoria a partire proprio da leopardi quindi c'è sicuramente questa presenza molto forte italiana di leopardi in penna attestata poi in tantissimi modi soprattutto per i per i richiami le allusioni le citazioni insomma come tutti i maggiori poeti del novecento penna gronda leopardi da tutti i pori e tra l'altro quello che possiamo notare è che il la presenza la presenza di leopardi è talmente pervasiva nel corso del del novecento tanto che potremmo quasi ricorrere un paradosso e fare di leopardi non il più grande poeta dell'ottocento ma forse del novecento addirittura in questo in questo senso penna appunto è molto molto abitato molto pervaso da leopardi e lo è al punto che la poetica della memoria della rimembranza no così forte così centrale leopardi ritorna in lui in questa chiave iniziale proprio di manifesto la vita è ricordarsi di un risveglio quindi la vita non è un risveglio ma la vita è il ricordo di un risveglio un ricordo che naturalmente agisce su più piani agisce su più fronti e uno di questi piani sicuramente è quello che riguarda la deviazione affettiva che già leopardi riconosce e che interviene appunto sulla rievocazione del vissuto nel presente quindi quando noi ricordiamo intanto ovviamente come ci ribadirà in maniera molto evidente prus la memoria funziona in maniera involontaria quindi la memoria che sceglie come quando e cosa rievocare e poi soprattutto o la memoria agisce in qualche modo come come filtro deviante appunto cioè l'affettività con cui noi richiamiamo ciò che leopardi chiama anche assuefazione e l'affettività con cui noi richiamiamo appunto un evento del passato fa sì che quell'evento o nel nostro presente si si affacci in una maniera non perfettamente coerente con quanto è effettivamente accaduto nel nostro nel nostro passato quindi la memoria è un filtro affettivo è un potentissimo filtro affettivo e quindi testimoniare della presenza della memoria in maniera così radicale più che nella nell'arte nella poesia addirittura nella vita la vita ricordarsi di un risveglio ci fa capire appunto quanto fosse centrale questa tematica e soprattutto quanto per per penna fosse importante orientare qualche modo a domesticare anche la propria scrittura proprio all'insegna di questa affettività affettività che prende la forma iniziale di una vera e propria passione ecco penna rifiuta l'arte per l'arte la poesia per la poesia stabilisce invece un nesso sempre molto forte tra scrittura e vissuto e quindi tutto quello che è esercizio intellettualistico tutto quello che è esercizio solo della ragione e della spietatezza della ragione provoca appunto la diffidenza e il distacco da parte di penna a favore invece di una poetica più vitalistica vitalismo che naturalmente anche qui ha un tutta una serie di ascendenze sia italiane che che d'oltralpe tra quelle italiane sicuramente basterebbe fare i nomi di annunzio e di comisso ecco soprattutto in comisso in questo grande scrittore veneto oggi poco poco letto un po' dimenticato ma che andrebbe sicuramente rivisitato o riletto in comisso penna vede il suo unico vero maestro come gli scriverà in una cartolina più più tarda già negli anni 50 quindi nel momento in cui la fisionomia poetica di penna ormai ha un suo riconoscimento sociale compiuto ampio perché nel corso degli anni 50 penna pubblica diverse raccolte ottiene è un premio viareggio anche se fu un'edizione un po contrastata di quel premio per quello che riguarda la poesia perché fu in qualche modo diviso tra lo stesso penna tra pasolini con le cenere di granci e da arnoldo arberto mondadori scusate il figlio dell'editore mondadori che era anche poeta quindi sostanzialmente tre tre autori di cui uno destinato ovviamente a far parte della storia della cultura dell'editoria due a pieno titolo della storia della letteratura del novecento che dovettero dividere tra loro appunto questo questo premio però ci fu questo riconoscimento quindi ormai la poesia di penna era stata pienamente accettata anche se con qualche strascico di polemiche che in realtà erano in sorte già al tempo dell'esordio di penna proprio per una certa scabrosità diciamo così dei temi perché sostanzialmente la poesia di penna appunto nel momento in cui la figura materna viene sostituita dalla figura del fanciullo a sua volta ed è un fanciullo che deve mantenersi giustamente sempre distante in qualche modo una figura luminosa una figura divina che viene dal dal mito più che una figura concreta viene appunto a scandire questa seconda e più duratura fase diciamo di amor di lontano da parte da parte di penna che cosa è successo è successo che sempre in quel 1928 in cui penna scrivendo questa poesia appunto la vita ricordarsi di risveglio e quindi raccontando questo ennesimo arrivo a porto san giorgio per incontrarsi con con la madre quindi per colmare questa assenza durante questa attraversata in treno si imbatte in una vera e propria epifania quella che ha dato il titolo poi anche a un convegno importante su pena l'epifania del desiderio cioè penna scopre il desiderio scopre anche la natura del proprio desiderio e quindi vede davanti a sé un un giovane non propriamente un un fanciullo ma un ragazzo già quasi 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 uomo addirittura quindi un marinaio che indossa due colori che sono assolutamente fondamentali e simbolici l'azzurro e il bianco appunto questi sono i colori della divisa della marina ma sono anche colori che hanno due significati molto molto forti per per la poesia intanto il bianco che il colore da una parte della purezza dall'altra della trascendenza e il l'azzurro che a partire poi da leopardi e ancora con con allarme e ancora con sab appunto diventa sempre più nel corso della piena modernità il colore della poesia e il colore anche qui della della distanza della malinconia dell'assenza quindi anche dal punto di vista proprio delle delle scelte cromatiche il testo di penna risulta perfettamente compatto e perfettamente coerente quindi che cosa succede succede che c'è un risveglio triste appunto un risveglio lontano lontano dalla casa paterna e dove non è ancora giunto alla casa materna quindi si trova sospeso tra due vite tra due esistenze tra due affetti molto molto diversi fra loro c'è l'alba in questo treno la luce appunto è ancora incerta come dice giustamente la poesia e sente nel corpo rotto appunto nel corpo che ha dovuto adeguarsi appunto a dormire su queste panchine dure di legno che cosa una malinconia una malinconia che l'aria pungente l'aria appunto del primo mattino gli rivela come vergine e aspra quindi una malinconia non dolce come spesso invece viene o gentile pensate per esempio alla celebre poesia di pindemonte malinconia ninfa gentile appunto qui invece la malinconia è aspra è aspra come pungente l'aria del mattino si assimila appunto all'assessaria del mattino è un tutt'uno quindi tra le sensazioni fisiche e le sensazioni appunto interne i sentimenti ed è una malinconia vergine nel senso che è una malinconia ancora non provata è una malinconia veramente nuova che però improvvisamente libera il poeta e qui diventa appunto più dolce quindi entriamo dalla dimensione della sprezza a quella della dolcezza finalmente in cui dal punto di vista della tradizione ci riconosciamo molto di più perché perché scopre che accanto a lui appunto vicino a lui c'è un marinaio giovane appunto la notazione non è non è da poco appunto non poteva certo essere un marinaio maturo un marinaio anziano che non avrebbero mai catturato la sua attenzione e soprattutto non avrebbero acceso alcun tipo di desiderio e quindi subentra questo cromatismo del marinaio non ci viene detto nulla se non appunto i colori della sua divisa per l'alto valore simbolico che hanno e fuori finalmente lo sguardo si spossa fuori da questo vagone fino a questo momento il testo si è accaduto possiamo dire in un interno appunto all'interno di questo vagone finalmente Penna osserva fuori e fuori che cosa c'è ad attenderlo appunto un mare tutto fresco di colore quindi vedete come gli aggettivi anche della prima strofa la luce è incerta il corpo è rotto la malinconia è aspra l'aria è pungente ecco che lasciano spazio nella seconda strofa invece ad aggettivi che hanno un valore sicuramente positivo dolce e fresco appunto e il marinaio che è giovane quindi cambia completamente lo scenario interno come cambia anche lo scenario esterno quindi tramite questo fanciullo Penna accede a questo mare non ci parla più appunto come nei componimenti di poco precedenti di questa assenza materna la intuiamo Penna stesso poi rivelerà che questa poesia appunto dichiarerà che questa poesia è stata scritta proprio in uno di quei viaggi in cui si recava a trovare a trovare sua madre però è accaduto questo appunto che il fantasma materno qui diventa un fantasma sempre più fantasma sempre più evanescente nel senso che viene appunto sostituito come punto d'arrivo dall'immagine del mare ecco perché parlavo quindi di una natura accogliente la natura non può che essere accogliente e la grande stagione della poesia di Penna è sicuramente quella della primavera e dell'estate piuttosto che quella dell'autunno e dell'inverno quando il tempo è brutto quando c'è la pioggia quando la natura si manifesta in maniera ostile Penna naturalmente si sente solo torna a sentirsi un soggetto profondamente estraniato dalla natura stessa quindi che cosa accade? Accade che questo mare tutto fresco di colore viene anticipato come visione esterna viene anticipato da una visione ancora all'interno del vagone di questo marinaio giovane ed è questa la figura umana concreta e simbolica al tempo stesso in cui noi ci imbattiamo questo testo come vi dicevo risale all'agosto del 28 e raccontando appunto come l'ha scritto Penna in qualche modo alimentato una vera e propria mitologia della propria poesia della propria scrittura perché ha sempre affermato in scritti anche in interviste che questa era in assoluto la prima poesia scritta da lui scritta così per caso gli venne di notte la scrisse sul margine di un foglio di giornale in realtà non è mai stato trovato questo foglio di giornale sono state trovate invece diverse stesure con delle varianti quindi è chiaro che c'è stato anche un lavoro lavoro di ben sedimentato e ben comprovato di scrittura e di riscrittura qual è la parte di verità nel racconto mitico appunto di Penna? la parte di verità è che appunto questa è sicuramente la sua prima poesia compiuta quella che appunto poi da questo momento in poi occuperà sempre la prima posizione in tutte le principali raccolte di Penna proprio perché suona abbiamo detto come un manifesto la vita come ricordo un ricordo che poi diventa da ricordo di un risveglio diventa ricordo di una liberazione appunto il secondo ricordo è questo proprio legato all'apparizione all'epifania potremmo dire del marinaio giovane e quindi fuori in esterna del mare è un movimento molto molto bello un movimento soprattutto dei sensi aver veduto, aver sentito che sembra veramente riprendere quello che è l'andamento dell'infinito di Leopardi i due sensi fondamentali dell'udito e della vista muovono un po' tutto il testo c'è una vista che viene impedita da una siepe come ricordiamo tutti e poi ovviamente lì scatta l'immaginazione il racconto nel pensiero appunto la finzione come la definisce giustamente Leopardi e poi c'è il rumore, il vento appunto che muove le foglie della siepe e fa tornare il poeta al di qua della siepe ma questa volta portando con sé questo forte sentimento dell'infinito quindi come in Leopardi c'è una doppia prospettiva appunto della sensazione tra un al di qua e un al di là in penna si svolge anche qui una doppia prospettiva tra il dentro del vagone e il fuori del paesaggio ed è significativo che in qualche modo Penna abbia rovesciato qui l'andamento proprio dell'infinito leopardiano perché la scoperta dell'infinito avviene appunto proiettando l'immaginazione al di là della siepe mentre invece qui l'epifania del desiderio accade appunto all'interno del vagone in diretta prossimità ed è solo fuori che appare questo mare che è un'immagine appunto sicuramente positiva rassicurante un grande simbolo o una grande metafora se preferite della vita stessa e del modo in cui appunto Penna declina la propria affettività dicevo appunto è un testo dell'agosto del 28 il 28 è un anno cruciale per Penna proprio per la sua poesia per la sua scrittura e anche per la rivelazione di sé a se stesso possiamo dire perché solo nella primavera di quell'anno quindi pochi mesi prima di scrivere la vita e ricordarsi del risveglio Penna si è recato in gita con la famiglia in un paesino umbro della provincia di Terni Avigliano dove la parte paterna della famiglia aveva un podere e spesso appunto andavano a fare queste gite cosa è accaduto? che improvvisamente in quel frangente Penna si imbatte nel primo dei suoi fanciulli ecco il primo fanciullo di Penna non è il marinaio è sicuramente il marinaio nella poesia nei versi ma anche qui insomma c'è da fare il confronto con contesti anche che risalgono già al 27 in cui qualche fanciullo venatamente appare quindi diciamo che pensare al gioco di Penna forse il marinaio è il primo fanciullo, adolescente, ragazzo compiuto che compare nella poesia di Penna anche se siamo già un po' al di là della definizione vera e propria di fanciullo ma il primo vero fanciullo che compare nella scrittura di Penna compare in prosa compare in un racconto che si intitola appunto Quintilio oppure Un giorno in campagna in cui noi troviamo un giovane cugino appunto che ha una natura un po' selvatica selvaggia una sorta di di barone rampante di Calvino che vive sugli alberi si rampica continuamente sugli alberi vive in mezzo alla natura è completamente straneo alle regole del comportamento sociale ignora gli orari di pranzo o di cena insomma vive come in un mondo tutto suo che è il mondo stesso della natura ecco quindi abbiamo veramente qui la riproposizione di un mito che aveva percorso ampiamente come ricordiamo tutta la grande cultura del Settecento da dico a Rousseau il mito appunto del fanciullo che in qualche modo è anche selvatico è anche un buon selvaggio nel senso che viene prima di tutte le grandi sovrastrutture che poi indirizzano in qualche modo in positivo o in negativo la vita dell'uomo e la storia stessa dell'umanità viene sostanzialmente prima della cultura e prima della storia quindi questo fanciullo altro non è che l'immagine proprio pura primigenia di quello che possiamo definire uno stato di natura coincidente proprio con l'alba del mondo quindi l'immagine del fanciullo è l'immagine proprio di un mondo puro di un mondo incontaminato di un mondo primigenio per quanto naturalmente possiamo riconoscere che si tratti di niente più che un mito però questo mito è in grado di alimentare molto della modernità e suona in qualche modo come un vero controcanto rispetto a una letteratura che invece celebra in qualche modo la modernità stessa soprattutto le grandi conquiste scientifiche tecnologiche come poteva accadere per esempio in una poesia futurista a cui comunque Penna guarda con molto interesse proprio per altri miti che sono contigui appunto alla sua poetica come abbiamo detto quello del vitalismo ma soprattutto direi anche altri altri miti importanti come quello della velocità delle macchine dei treni quanti treni appunto percorrono la poesia di Penna ce ne sono tantissimi appunto e sono treni che futuristicamente guardano verso il futuro e ai quali Penna in qualche modo affida la propria malinconia perché la portino il più il più lontano possibile e quindi questo questo cugino questo piccolo cugino Quintilio è in realtà una vera e propria rivelazione rivelazione a Penna di ciò che rappresenta per Penna la forma simbolica privilegiata della sua poesia e di quella anche che è stata la forma simbolica privilegiata della modernità ai suoi albori cioè proprio a cavallo fra sette e ottocento quando sia nell'ambito del del romanzo di formazione che diventa allora insieme alla lirica il genere dominante e di quanti fanciulli appunto quanti garzoncelli ne possiamo trovare anche nella lirica leopardiana o quanti addirittura fanciulli proprio nel senso di child troviamo anche nella grande lirica europea pensiamo appunto di nuovo a Byron per esempio appunto però appunto il protagonista è il fanciullo che deve diventare adolescente che da adolescente diventare maturo appunto quello del romanzo di formazione e di quello che potremmo definire anche come dire il rovescio della medaglia il suo gemello inquietante del romanzo di formazione che è il racconto fantastico anche lì molti dei protagonisti sono appunto dei fanciulli o degli adolescenti questo perché perché in qualche modo la modernità proprio come età della velocità come età in cui tutto si accelera in cui tutto brucia appunto più rapidamente vede proprio nell'adolescenza e nella fanciullezza questa età di metamorfosi di trasformazione alle cui spalle c'è il grande sterminato territorio dell'infanzia che appunto diventa simbolicamente infanzia del mondo adolescenza viene da adolio che vuol dire appunto crescere diventare grande ma c'è anche una forma inquietiva del verbo che è adolesco che tra i suoi significati primari è proprio quello di bruciare quindi l'adolescenza come età che brucia ricordiamo anche la definizione stupenda che ci dà Ungaretti in una poesia notissima come i fiumi che non a caso è considerata un po' anche la sua carta di identità quando appunto brucia di inconsapevolezza appunto nelle pianure desertiche egiziane dove appunto aveva vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza prima di recarsi in Francia quindi l'idea stessa del bruciare che il fuoco naturalmente comporta una metamorfosi la messa in moto di una vera e propria trasformazione è veramente emblematica proprio dell'adolescenza a monte dell'adolescenza appunto l'infanzia che è strettamente collegata quindi direi che il fanciullo e l'adolescente diventano veramente forme simboliche privilegiate di una modernità che guarda però curiosamente non tanto al proprio presente o al proprio futuro ma che guarda invece al proprio passato e lo fa come dire non in maniera banalmente nostalgica ma lo fa per tenere presente appunto un punto d'origine un punto d'avvio la cui presenza culturale la cui consapevolezza devono restare sempre accese nell'animo del sentimento moderno insomma nel cuore del moderno come è stato ripetuto più volte continua comunque a pulsare anche un cuore antico e di questa antichità Penna che pure è un poeta del suo tempo appunto è un poeta che si è formato soprattutto sui moderni non abbiamo attestazioni di frequentazioni da parte di Penna anche per quella che è stata la sua formazione culturale appunto di di poesia latina o di poesia greca per esempio sicuramente perché ce ne sono le tracce e perché facciano parte naturalmente dei programmi scolastici di quel tempo come di oggi ha letto tutti i grandi autori italiani quindi possiamo immaginare che la sua cultura potesse spingersi indietro fino a Petrarca e Dante presentissimi appunto come citazione nei suoi versi ma non non andrei appunto più più indietro viceversa il grande serbatoio della modernità è davvero quella cui Penna attinge a piene mani e continua ad attingere come avviene il suo esordio letterario una volta quindi definita una sua poetica vitalistica passionale anti intellettualistica e quindi avendo scelto un un filone molto molto netto essendosi posizionato in maniera molto chiara con se stesso anche nei confronti della cultura letterale del suo tempo Penna sceglie il suo primo mentore il suo primo punto di riferimento in Saba e scrive a Saba inviandogli una serie di poesie tra cui appunto la vita ricordarsi di risveglio la risposta di Saba sarà una risposta entusiastica ma non sarà una risposta immediata nel senso che Penna all'inizio scrive a Saba sotto pseudonimo usando il cognome della madre Antonione e Saba risponde appunto che così perplesso su alcune su alcuni versi ma entusiasta appunto della vita ricordarsi di un risveglio che scrive e gli giunge come una sorta di ramoscello fiorito nel mezzo dell'inverno passano alcuni anni e solamente nel 32 Penna appena viene suggerito di avviare un percorso psicanalitico e a Roma si è trasferito da poco uno dei grandi allievi di Freud Edoardo Weiss uno veramente dei pari della psicanalisi italiana e che tra l'altro era lo stesso medico finché Weiss era rimasto a Trieste da cui andava a Saba e quindi Weiss favorisce a Roma questa volta in una delle viaggi di Saba a Roma l'incontro fra i due è un incontro così che sembra destinato a non lasciare traccia Penna esita a rivelare di essere quell'Antonione che qualche anno prima gli ha inviato le poesie finalmente decide di svelarsi Saba preso da entusiasmo ritarda manda un telegramma alla moglie ritarda il suo rientro a Firenze e invece lo porta a Firenze perché Firenze è appunto la capitale letteraria di quel di quel momento e tutti i grandi letterati tutte le grandi le più importanti riviste sono lì a Firenze si adopera perché Penna esordisca sulle pagine sulla prima pagina dell'Italia letteraria e questo già sanciva l'esistenza di un poeta a quei tempi dove pubblica appunto La vita ricordarsi di un risveglio con altre poesie appunto lo accompagna a Firenze dove incontra Montale dove incontra tutti gli altri letterati riuniti al caffè delle giubbe rosse e naturalmente Penna entra in contatto quindi con il gruppo di Solaria e con le altre riviste che si stampavano allora a Firenze nel corso degli anni 30 e soprattutto per tutti gli anni 30 Penna è molto legato proprio a Solaria che poi diventerà letteratura e nell'edizione di letteratura solo nel 39 nello stesso anno appunto delle occasioni di Montale uscirà un suo primo smilzo o libretto appunto che però comincia già a far parlare di sé Penna avrà dei lettori molto molto attenti soprattutto dei lettori di grande rilievo che ne favoriranno poi il suo ingresso definitivo nella storia della letteratura italiana Penna continua a scrivere soprattutto prose ancora negli anni 40 collaborando anche ad alcuni quotidiani e poesie continuando appunto a pubblicarle soprattutto su rivista fino alla metà degli anni 50 quando si imbatte nell'ultimo appunto dei suoi fanciulli a cui sarebbero destinate le poesie raccolte poi postume in peccato di gola e che in realtà sono state estrapolate da un carteggio e quindi come dire si tratta di un'operazione un po' dubbia poco condivisibile tra l'altro queste lettere non sono mai state rinvenute nessuno le ha avute sotto gli occhi quindi non sappiamo bene fino a che punto si tratti di un testo apocrifo però se le cose stanno sanno così come ci è stato raccontato allora è evidente che con la fuoriuscita dell'ultimo amore si esaurisce anche la scrittura come a dire finisce la vita finisce anche la scrittura gli ultimi vent'anni di penna sono segnati appunto dall'isolamento si isola sempre più dentro casa frequenta pochissime persone soprattutto letterati e pittori nuovi pittori che si sono raccolti intorno alla scuola romana quindi Tano Festa Franco Angeli soprattutto Mario Schifano che girerà con penna un video molto importante all'interno di un suo filmato umano troppo umano e nel 77 appunto a soli 71 anni improvvisamente penna muore alla fine di quest'ultimo ventennio tutto sommato poco significativo per la sua produzione ma anche per la sua stessa vita e si chiude così una vicenda biografica scandita vissuta tutta all'interno dell'Italia con pochissimi viaggi soprattutto compiuti in gioventù sia verso il nord che verso il sud Italia non risultano viaggi compiuti da penna all'estero e quindi è veramente un'esistenza priva di di eventi particolari di eventi particolarmente importanti segnata appunto dalla presenza fortissima della poesia che appare a penna proprio attraverso le sembianze di un fanciullo che nulla ha poco a che fare con tematiche tipicamente omosessuali ma che appunto rivelano a penna la presenza di una divinità appunto che penna avrebbe voluto continuare ad essere e sa benissimo di non essere più appunto ovvero il fanciullo se proprio possiamo parlare di declinazione della nostalgia in penna appunto di questa malinconia che che compare già nel primo testo che abbiamo letto è una nostalgia che viene declinata non al passato ma al futuro cioè penna rimpiange la vita che ancora vorrebbe vivere e sa che invece non potrà non potrà più vivere come in a